Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza di vigilia del nostro allenatore Massimiliano Allegri, cominciamo con una domanda a testa, cominciamo con la piattaforma Juventus, prego. Mister, buongiorno, Andrea Besenzoni, Juventus.com, Juventus TV, le chiedo come è tornato il come ha lavorato, sia chi è appunto tornato e come ci avviciniamo a questa doppia sfida con la Lazio che per i nostri obiettivi è molto significativa, grazie. La scuola è tornata bene, in senso quelli che sono rimasti hanno lavorato bene, gli altri sono tornati dalle nazionali, qualcuno ha raggiunto l'obiettivo dell'Europea come Scesni, altri hanno fatto amichevoli, quasi tutti hanno fatto gli amichevoli e quindi da domani riparte il rush finale di questi 55 giorni che ci porteranno al 25 di maggio. Buongiorno mister Giovanni Albanese Sport Italia, in questa pausa abbiamo visto Healing far bene con la sua nazionale, le chiedo se può esserci possibilità di vederlo dall'inizio contro la Lazio ma più in generale come valuta il suo percorso di crescita, a che punto è questo ragazzo se possiamo considerarlo a tutti gli effetti un giocatore pronto per fare il salto di qualità, grazie. Healing ha giocato molto quest'anno, c'è stato dei momenti in cui lo giocano un po' di meno però è sempre stato un giocatore molto considerato, sta facendo un percorso di crescita come stanno facendo tutti gli altri, sono molto contento. Buongiorno Giovanni Guardalasca e Sport invece le chiedo di Ken, vista la squalifica di Vlaovic, l'infortunio di Milik, per lui finora è stata una stagione sfortunata, i due gol annullati col Verona, il palo col Genoa, il lungo infortunio, domani per lui può essere un'opportunità importante, immagino giocherà dall'inizio, le chiedo come sta e cosa si aspetta da qui alla fine della stagione da lui. Mi aspetto molto, credo che poi abbia anche l'obiettivo di poter far bene, di dover far bene per cercare di guadagnarsi anche un eventuale posto in nazionale per l'europeo, doveva andare via, poi invece è rimasto e si è rimesso a posto fisicamente, è tanto che non gioca, comunque domani sicuramente farà una buona partita. Parte titolare domani, sì. Buongiorno mister Filippo Cornacchi, la Gazzetta dello Sport, durante la sosta la società l'ha rinnovato la fiducia anche pubblicamente, volevo capire se visto che un mese fa prima di Napoli aveva detto del futuro alla società, non mi ha ancora detto niente, è passato un mese, c'è stata questa sosta dove magari a bocce ferme, senza partite, si poteva parlare con più tranquillità e quindi se nel frattempo ha avuto garanzie sul futuro alla Juventus. Credo che in questo momento la cosa più importante, bisogna essere tutti focalizzati su quello che è il finale di stagione, perché comunque purtroppo abbiamo buttato tanti punti di vantaggio che avevamo sulle quinte e ora in questo momento qui bisogna essere realisti, abbiamo fatto sette punti nelle ultime otto partite, nel giorno di ritorno abbiamo fatto solamente tredici punti e quindi abbiamo nove partite per andare a consolidare una posizione che è quella dei tre posti in Champions che sono rimasti e quindi bisogna conquistarlo. Poi come dicevano prima c'è la Coppa Italia da giocare, il martedì abbiamo un'altra partita importante con la Lazio, due due match che vale la Coppa Italia, quindi bisogna pensare esclusivamente a questo. Sono contento che la società abbia rinnovato la fiducia, ma non avevo nessun dubbio su questo perché comunque con la società stiamo lavorando e la società starà programmando quello che è il futuro, ma in questo momento è importante e fondamentale cercare di rimanere focalizzati su quello che è il presente, il presente è il domani, domani partirà il lascio finale e sappiamo che sarà molto difficile perché abbiamo molti scontri diretti e ripeto abbiamo buttato via, abbiamo perso perché abbiamo fatto pochi punti, tanti punti sulle inseguitrici. Un giorno mister Nicola Gallome di Apason, le chiedo se in questi giorni con chi è rimasto ma anche da quando sono tornati i nazionali è importante lavorare sulla testa più che sulle gambe, in un momento in cui non sono arrivati i risultati per una squadra così giovane c'è il rischio che venga a mancare l'entusiasmo e quindi ora focalizzarsi come ha detto lei e cercare di ritrovare quella fiducia che forse un po' può essersi persa vedendo magari allontanare l'Inter, ce l'ha detto anche qualcuno dei suoi ragazzi. Nel calcio si vive anche questi momenti purtroppo e quindi bisogna rialzarci e incominciare a fare dei risultati che ci porteranno a quello che sarà l'obiettivo della società, quello di entrare in Champions. I ragazzi devono stare sereni, devono giocare con totale tranquillità anche perché fino ad ora la scuola ha fatto 59 punti, è vero che sono stati distribuiti male perché abbiamo fatto i 46 il giorno di andata e solamente i 13 il giorno di ritorno. Però alla squadra non ho da rimproverare niente, è normale che quando mancano risultati bisogna fare qualcosa in più per ritornare a creare quell'entusiasmo che serve per affrontare nel migliore dei modi il finale di stagione. Però per quanto riguarda quello che stanno facendo i ragazzi per la crescita, sono cresciuti molti giovani, sono cresciuti anche singolarmente quelli più anziani e soprattutto c'è entusiasmo, c'è voglia lavorare, la squadra non ha mai smesso di cercare di fare bene. Poi la percezione è che all'andata abbiamo fatto delle partite magari come abbiamo fatto alle ultime vincendo e purtroppo nelle ultime partite non siamo riusciti a fare risultato. Queste non sono delle scusanti ma soprattutto c'è servire da stimolo per cercare di far bene nelle ultime partite. Buongiorno Ministro, le chiedo se questo periodo di stop è servito, molto francamente ce lo dica, se è servito per riflettere su quelli che sono stati gli errori, un rush finale che vede la Juventus ancora ovviamente impegnata per una finale di Coppa Italia, una seconda posizione magari potrebbe essere un bel obiettivo visto che è stata per lungo tempo seconda la Juventus. Ecco, le chiedo se ha analizzato quali sono stati questi errori che purtroppo hanno portato la Juventus da sempre seconda poi a scendere ad avere questo down così quasi inspiegabile. Grazie. Perché il calcio è difficile da spiegare. Noi lavoriamo, guardiamo, cerchiamo di vedere gli errori che facciamo. In questo momento qui parlare, spiegare non serve assolutamente niente, bisogna cercare di lavorare su quelli che sono stati fatti gli errori e soprattutto migliorare. Nel calcio poi conta quando fa risultati, in questo momento non stiamo facendo risultati, non li abbiamo fatti, bisogna cercare di invertire questa tendenza e lo possiamo fare solo noi. domani sono 500 panchini in Serie A, è un bellissimo traguardo immagino. Volevo chiederle un bilancio di queste 500 partite e soprattutto volevo chiederle se nella sua testa c'è l'ipotesi di raggiungere i mostri sagri come Mazzone, come Trapattoni che detengono questi record con tanti panchini. Quindi che cosa vede nel suo futuro? Cosa vedo? Sicuramente la voglia, la passione e l'amore che ho per questo lavoro e per questo sport che ormai frequento i campi di calcio da 10 anni, quindi ormai sono 47 anni, perché una volta quando ero bambino io iniziavamo a 10 anni, 11 anni, ora a 5 anni iniziano già a giocare. Diciamo che sto diventando diversamente giovane, quindi questo mi fa piacere. e poi sono contento di quello che ho fatto, che ho passato, ma nello stesso tempo ho tanta voglia soprattutto di divertirmi ancora, di lavorare, di stare ancora sui campi, perché altrimenti magari mi annoierei. L'importante è pensare a quello che sarà domani e soprattutto vivere questi 55 giorni con grande entusiasmo, grande voglia e soprattutto con due obiettivi importanti da poter raggiungere che devono essere da stimolo a tutti noi. Buongiorno mister, Simone Nasso, oggi Sport Notizie. A dicembre ha ironicamente dichiarato di mangiare tutti gli anni il panettone già a ottobre per portarsi avanti. Io le chiedo in maniera altrettanto ironica se ha fatto lo stesso con l'uovo di Pasqua e soprattutto cosa spera di trovare al di là dei tre punti nell'uovo di Lazio Juventus. Grazie. Non so cosa ci sarà dentro l'uovo di Lazio Juventus. Quello di Pasqua lo mangio prima perché l'uovo di Pasqua lo mangio tutti i giorni perché io sono amante della cioccolata e quindi tutti i giorni mangio cioccolata e quindi credo che tutti i giorni mangio l'uovo di Pasqua. Detto questo, indipendentemente da quello che sarà domani, che è una partita difficile, troveremo una Lazio che ha cambiato all'allenatore, Tutor comunque è un allenatore che presenta le squadre molto aggressive. Dovrà essere una bella partita, dovrà essere una partita dove noi dobbiamo fare bene sotto tutti i punti di vista. È un bel test e dovrà essere un buon inizio per quello che saranno le partite future. Buongiorno Alessandra Tangiora, iSport. Ci ha già detto che Ken partirà titolare domani e a questo punto, vista anche la situazione attaccante, le chiedo se ha già le idee così chiare anche su chi sarà al suo fianco nel ballottaggio tra Chiesa e Ildiz e poi visto che si parla di questa nuova Lazio che troverà domani di Tutor, come se l'aspetta? Aspetto, sicuramente è una squadra che cambia allenatore, avrà grandi stimoli, è una squadra che partirà forte, è una squadra che cercherà di ritornare alla vittoria e noi bisogna essere pronti a controbattere e a giocare molto bene tecnicamente perché domani bisogna giocare molto bene tecnicamente. Per quanto riguarda Chiesa e Ildiz stanno tutti e due bene, sono tornati dalle nazionali e sono due giocatori importanti che sicuramente in questo finale di stagione con il rientro di Vlaucio alla squalifica e speriamo di Milica più presto avremo un parco attaccanti che ci dovrà consentire dei gol che ci permetteranno di arrivare e di raggiungere gli obiettivi. Buongiorno mister Filippo, buonsignore Corrierello Sport, le chiedo se ha rifatto i conti magari per la quota Champions, qual è adesso il traguardo? Grazie. La quota Champions al momento diventa 70 punti, poi vediamo che ci sono tanti scontri diretti quindi ora bisogna pensare a fare dei punti noi perché 59 non bastano, quindi 59 per la Champions non bastano, quindi un po' di punti vanno fatti, parecchi ma soprattutto non è questione dei punti, è questione di avere degli obiettivi che sono comunque quelli di tornare a vincere perché comunque una partita vinta ti fa vedere le cose in modo diverso, però attraverso questi periodi diciamo di difficoltà che ci sono ci sarà sicuramente anche una crescita della squadra sia singolarmente che come squadra. Buongiorno Max, Stefano Salandini Tutto Sport, sulla Lazio se ne hai parlato poco, a me incuriosisce due cose, la prima è una vera rivoluzione perché la Lazio ha fatto due anni di percorso, parlando di calcio, con un allenatore che gioca tra le linee, gioca negli spazi e ne arriva uno che senza poter fare prove prima gioca sull'uomo, sull'aggressività, si può fare questo cambio in due settimane secondo te, la seconda cosa è Tudor nella grande confusione che gira spesso intorno al tuo nome è stato uno dei candidati alla tua eventuale successione, per te è uno stimolo in più oppure ti lascia indifferente? Grazie. No, non è questione, Tudor ha fatto molto bene a Marsiglia, ha fatto molto bene a Verona e noi sappiamo che troveremo una Lazio credo un po' differente rispetto a quella che era di Sarri, non so se due settimane bastano o non bastano, però il calcio ripeto, è difficile spiegarlo, è quasi impossibile, quindi dobbiamo affrontare la Lazio sapendo che troveremo una squadra già mentalmente pronta a fare una partita aggressiva che comunque il cambio di allenatore ti dà sempre un qualcosa in più, quindi bisogna essere pronti, sapendo che oltre a questo è una squadra con giocatori importanti, che ha Luiz Alberto, Immobile, Zaccanni, Filippo Anderson, Vecino, tutti giocatori di grande qualità che hanno soluzioni effettive importanti. Buongiorno mister, Alberto Mauro Messaggero, Juventus News 24. Le volevo chiedere se per lei cambia tanto, cambia molto la posizione a fine stagione tra il secondo, il terzo e il quarto posto, comunque considerando la Champions League e se può cambiare qualcosa anche nelle sue prospettive future. Grazie. Diciamo che l'obiettivo nostro è quello di ottenere il massimo, non è il secondo, il terzo e il quarto posto. Noi dobbiamo cercare di fare i più punti possibili, soprattutto per invertire quello che è stato il giorno di torno in questo momento, di questo bisogna essere realisti e bisogna prenderne atto. Quindi, ripeto, abbiamo nove partite, ci sono 27 punti a disposizione e bisogna cercare di farne il più possibile. Antonio Polino, Radio Bianconera. Effettivamente dei 13 punti appena ottenuti nel girone di ritorno, qualche limite, qualche deficit della squadra c'è, come la Lazio tra l'altro, un dato. Ti chiedo se degli appunti, delle richieste che ti fanno, che ti facciamo anche noi, o dei tifosi, la cosa più incomprensibile che ti arriva, cioè la critica che magari proprio non ci sta nel non comprendere quello che è capitato, quello che è la Juventus o quello che potrà essere. Se posso aggiungere, se ti hanno fatto piacere le parole di Scanavino in questa settimana. Grazie. Le parole di Scanavino mi hanno fatto piacere assolutamente sì, perché rappresentano la società e la proprietà. Per quanto riguarda le critiche, quando ci sono questi momenti, le critiche vanno accettate, le critiche vanno accettate sempre, ma quando ci sono questi momenti ancora di più. Nel calcio, se vinci sembra un ragazzo, se perdi, e quindi contano risultati. In questo momento qui non abbiamo fatto risultati, abbiamo fatto di meno. I ragazzi sono stati molto bravi a farli nel girone di andata, nel girone di ritorno. Stiamo facendo non bene, perché i 13 punti sono pochi. Il calcio ti dà la possibilità comunque di rovesciare quello che è il momento negativo, quello che è tutto nero oggi, magari può essere bianco domani. Quindi noi dobbiamo cercare, dobbiamo lavorare per far sì che questo diventi bianco, perché questo si inverta il trend delle partite, della mancanza di risultati, perché comunque abbiamo un obiettivo troppo importante da raggiungere. La Juventus, il secondo prossimo, dovrà giocare la Champions. Abbiamo il mondiale per club e questo fa sì che è uno stimolo talmente importante che questo obiettivo non ci deve sfuggire. Non vedo altre domande. Grazie allora. Buona giornata.